Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, come da tradizione, dopo il pareggio di Crotone, ecco che parte il linciaggio mediatico, ma anche dei tuoi innamorati, dei tuoi sostenitori. Allora, se ti fai una squadra e sei innamorato di quella squadra, la devi sostenere, soprattutto quando c'è della difficoltà. Anno di ricostruzione, allenatore nuovo, giocatore nuovo, abbassamento dell'età media della Rosa, se non giocano i giovani, non scopri mai i giovani, se giocano i giovani, ma come fai a giocare con i giovani? Tutto naturalmente nel paese dei risultatisti in base a quello che succede, quindi neanche il pareggio ogni tanto viene più accettato. Ragazzi, si gioca in Champions League, ma soprattutto si gioca per costruire una nuova Juve vincente a cui bisogna dare sostegno grandissimo, sostegno interminabile, sostegno, grazie a tutto quello che abbiamo dimostrato in questi anni, no? Ricordo uno scudetto dove praticamente eravamo oltre il decimo posto in classifica e tutti dissero che era impossibile che questa volta la Juve lo vinca e la Juve lo ha rivinto. Poi sono arrivate nuove situazioni ed era impossibile che la Juve lo vincesse e la Juve lo ha rivinto. E allora anche quest'anno vi dico che noi lo vinciamo.